Buongiorno a tutti, ben arrivati, grazie per la vostra presenza qui. Buongiorno a tutti, allora oggi Claudia ci porta alla sua ultima opera, Neve a luglio, un'opera un po' diversa rispetto a quelle che Claudia ha prodotto finora perché non è certo la sua prima esperienza letteraria, ma io e Claudia ci conosciamo da molti anni. L'ho vista nascere praticamente, quindi questo già la dice lunga sulla nostra conoscenza e la nostra età. Io negli anni ho assistito al tuo avvicinamento alla scrittura e alla produzione comunque degli altri tuoi romanzi. Raccontaci un po' come ti sei avvicinata alla scrittura, come è nata questa passione e come si arriva poi a Neve a luglio. D'accordo, allora partiamo dal fatto che la scrittura non è stata una scoperta immediata. Direi che è stato piuttosto il frutto di un percorso, di un processo, in cui sono arrivata praticamente alla consapevolezza o a riconoscere che la scrittura era qualcosa che già mi apparteneva e quindi in quel momento ho potuto realizzare che potevo scrivere. Però nel momento in cui ho portato a consapevolezza questo fatto, non scrivevo più per me, ma dovevo scrivere anche per gli altri. E scrivere per gli altri comporta ovviamente un senso di responsabilità, anche per un solo lettore che mi legge, comunque c'è questa necessità di responsabilità e di riconoscenza nei confronti di chi ti legge. La scrittura quindi è stata qualcosa che mi ha permesso di entrare in rapporto profondo anche con me stessa perché mi concede e mi ha concesso il tempo della riflessione. Infatti la scrittura è qualcosa che devi fare in solitudine e comunque ha quel tempo della mediazione che ti consente di riflettere, che è diverso dall'immediatezza per esempio di un dialogo in cui magari gioca l'emozione. Ecco, quindi che questo è la possibilità insomma di aspettare. C'è il tempo dell'attesa nella scrittura e soprattutto c'è qualcosa di molto, secondo me, molto importante perché attraverso la scrittura mi dà la possibilità di risolvere anche le infinite contraddizioni che ci sono sia all'interno di me stessa che all'interno del mondo. E in effetti tu mi hai chiesto perché, come sono arrivata e perché scrivo. Allora scrivo anche e soprattutto per trovare delle risposte perché nasce, allora tutte le storie nascono appunto da questa necessità di dare una risposta agli interrogativi che man mano affiorano alla coscienza. Insomma, tu mi hai chiesto di neve, come sono arrivata a... Esatto, come sei arrivata a neve a luglio, a questo romanzo così particolare che poi andremo a scoprire un po' alla volta. Allora, come per ogni storia, cioè l'idea è come un seme. Un seme che viene introdotto e viene impiantato dall'esterno, cioè da una frase, da un'emozione, da un avvenimento. Infatti poi ci sono negli altri romanzi, è stato un avvenimento che è avvenuto a Brescia, per esempio. Cioè nasce sempre da qualcosa che dall'esterno va a toccare le corde interiori e in quel momento è come se fosse un rumore di fondo, un qualcosa che, allora, è soltanto embrionale, è soltanto un seme che appunto pian piano cresce ed è come se fosse una, appunto, è un'idea molto confusa, poi pian piano comincio a sfrondare come appunto le foglie, i petali di una margherita e quindi pian piano la storia si realizza e si concretizza. Ecco che neve, perché neve? Allora, devo dire che io ero impegnata, insomma, stavo scrivendo una storia un po' particolare che riguardava l'amicizia tra due giovani di un diverso paese e che coinvolgeva l'Etiopia, di cui so poco e niente, anzi quasi niente, per cui dovevo, insomma, informarmi e studiare. E poi ecco che capita quell'avvenimento incredibile, straordinario, eccezionale, e drammatico che è stato il Covid, appunto. Ecco. Che ha, diciamo, stravolto e messo a nudo un po' tutte le nostre abitudini e ha messo a nudo le nostre paure, le nostre fragilità. Credo che questo abbia avuto un ruolo importante nella genesi di Neve a Luglio. Sì, assolutamente sì, sì, sì. Infatti penso che, in particolare anche a Brescia, tutti ricordiamo, insomma, questo silenzio profondissimo, solo il suono delle croce bianche, insomma. Quindi, praticamente, per controbilanciare e per esorcizzare questa inquietudine che naturalmente nasceva da questo fatto che nessuno conosceva, insomma, nessuno conosceva, ho, proprio per esorcizzare, ho cercato di realizzare questo romanzo che è, come hai detto tu, diverso da quelli precedenti, proprio perché ho cercato di dargli il valore della leggerezza, una leggerezza profonda e uno simoro però ci può stare, insomma, proprio per alleggerire questo spirito, insomma, di pesantezza. E poi, se posso dire, tanto per rimanere nella leggerezza, voglio dire che ho partecipato ad una conferenza di Mancuso, Stefano, non ha, e ci ha garantito che le epidemie saranno all'ordine del giorno, quindi, insomma, potrò scrivere ancora qualcosa, cioè, questo per rimanere, tanto per sollevarci l'animo, ci ha detto che comunque ci saranno e ne vedremo comunque ancora, insomma. Vabbè, possiamo solo sperare che Mancuso si sbaglia. Speriamo, ma non credo proprio. Vabbè, comunque. Hai parlato di tempo dell'attesa, di tempo della riflessione nel momento della scrittura. Da questo tempo dell'attesa si percepisce nel momento in cui si inizia a leggere il tuo romanzo, perché tu introduci nelle prime pagine questo ambiente molto particolare, bucolico, rurale, che è permeato da questo senso proprio di tranquillità, di attesa, e viene improvvisamente sconvolto da quello che poi vedremo essere l'evento. Però, prima di parlare di questo evento, vediamo un po' quali sono i personaggi. Allora, che cosa hanno di caratteristico i personaggi di Pondark? Hanno un qualcosa di molto particolare che è evidente fin dalle primissime righe del tuo romanzo. Raccontaci un po' i personaggi, senza entrare nel dettaglio dei singoli. Facci un quadro di insieme. Un quadro di insieme. Allora, vabbè, innanzitutto, appunto, come diceva Elena, questo romanzo è collocato in un paese che si chiama Pondark, un paese che non esiste, ma che mi è stato così suggerito da un'immagine. Ecco, io ho visto un'immagine di un ponte che si rifletteva nel fiume sottostante e da qui è nata tutta l'immaginazione, insomma, diciamo, del titolo e del luogo, della collocazione, insomma, che si chiama Pondark. Pondark è un paese che io ho immaginato essere immerso in una valle verdeggiante dove niente accade, tutto è tranquillo. Infatti il sindaco, poi, è una pacchia per il sindaco, il sindaco stesso dirà che, appunto, governare una città così tranquilla è effettivamente una cosa che, insomma, piacerebbe a tutti, voglio dire. Nulla accade, nessuno conflitto, nessuna violenza, però niente è come appare. Allora, i personaggi sono, diciamo, nel micro, nella micro società di questo piccolo villaggio rappresentano in qualche modo, è una proiezione della società più in generale, quindi dal micro si passa poi al macro, perché ovviamente ciascuno di noi ha una propria personalità, una propria soggettività, siamo unici e ripetibili, questo lo sappiamo, però ci sono delle caratteristiche, dei comportamenti, degli atteggiamenti che si ripetono, si ripetono in tutto il mondo, diciamo, sono una replica, quindi, non so, la rabbia, la gelosia, l'invidia, la violenza, sono forme che attengono ovviamente all'umano e si riproducono in ogni luogo, quindi diciamo che Pont d'Arc è la rappresentazione in piccolo di qualcosa che c'è poi nella società. Allora, io ho immaginato alcuni personaggi, insomma, alcune caratteristiche fondamentali e prima immagino il personaggio e dopo mi arriva il nome. Io penso, spero, insomma, anche chi avrà voglia di leggerlo, che dal nome, perché nome è nomen e quindi è una caratteristica, insomma, che appunto dal nome poi possa in qualche modo anche già intuire qual è la caratteristica del personaggio. So, per esempio, Titina, cioè, voglio dire, mi è arrivato proprio pensando a questa donna così inconsistente, insomma, Titina, proprio ricorda... Avrei usato esattamente lo stesso aggettivo, inconsistente all'inizio. E poi anche lei rivela comunque una personalità molto particolare, vedremo poi che anche lei riserva delle sorprese. Ma torniamo al nostro sindaco, Augusto, che una mattina si sveglia e scopre che a Pont d'Arc a luglio ha nevicato. Ma proprio in questa tranquilla routine, questo susseguirsi di eventi sempre uguali, sempre senza grandi variazioni, per il sindaco è inconcepibile il fatto di poter chiamare quella che è evidentemente neve con il nome di neve, perché nello scorrere ordinato degli avvenimenti di Pont d'Arc non può starci la neve a luglio. E quindi questa cosa lo mette in seria difficoltà. Cosa combina, Augusto, per riuscire a superare questa impasse della neve? Allora, Augusto, appunto, diciamo che in questo paese si sveglia la mattina con questo fatto così straordinario, che poi magari non è neanche così straordinario perché ho saputo che è nevicato a luglio in qualche paese, comunque vabbè. Allora vuole cancellare la presenza di questo elemento così innaturale dalla sua città e lo butta, chiama appunto le persone, e butta questa neve nel fiume che attraversa la città. Allora, però il giorno dopo si risveglia e la neve è ancora lì. Neve però non è, poi vedremo anche magari perché, insomma, non so se vale la pena di dirlo. Comunque, allora, Augusto però, che è un sindaco comunque che ha la caratteristica del filosofo, si interroga, è un sindaco comunque di un certo, nonostante sia un paese così bucolico, è un sindaco che pensa. Allora, sostiene, ma io sono convinta di questo, per cui lo faccio dire al mio personaggio, però io sono convinta che il nome e chiamare le cose con un certo nome abbia poi un risvolto particolare, per cui lui sta molto attento al significato delle parole, perché le parole appunto hanno una valenza, un'importanza fondamentale. Appunto, allora, nel Vangelo di Giovanni, per esempio, si diceva che in principio era la parola, mentre Goethe, nella sua genialità, fa dire che invece in principio era l'azione. Quindi, cosa vuol dire? che far precedere l'azione, cioè il movimento alla parola, toglie la parola del suo significato, della sua sostanza. E la parola invece, per me, e credo che, insomma, per i maestri che la parola, secondo me, crea. Quindi parole positive hanno sicuramente un effetto benefico, mentre l'uso di parole violente e negative creano e generano violenza in chi le riceve. Per cui è sempre molto importante usare le parole giuste, perché le parole creano, le parole creano il mondo. Allora, Augusto deve dare un senso a questo elemento che ha preoccupato i cittadini e gli ha sconvolti, insomma, perché la neve in una giornata, in un'estate così calda come mai ne erano i precedenti. Allora gli dà il nome della bella sconosciuta, bianca sconosciuta. Insomma, bianca la chiama, la bianca sconosciuta. Non è che bisogna ricordare bianca, cioè bianca evoco qualche, però vabbè, insomma, bianca sconosciuta. E gli vuole dare un nome bello, che possa suscitare nei suoi cittadini una accettazione, insomma, di questo evento. Ecco, perché, come dice Augusto, poi le parole hanno appunto un significato, insomma, molto importante. Quindi Augusto è il nostro sindaco e poi però hai una cura proprio in virtù di quello che ci hai detto finora, anche per tutti gli altri nomi dei protagonisti che compaiono, per cui abbiamo Ezzelino, abbiamo Martino, abbiamo Agnese. Dici qualcosa di più di questi nomi, per esempio, di quelli che ti hanno creato più difficoltà nell'identificarli. Quali sono stati i nomi più difficili e per quale motivo? Allora, più difficili, più difficili. Devo dire appunto che i nomi mi vengono così, non ci rifletto molto sui nomi appunto, mi vengono spontaneamente. Ezzelino è un nome che suona rude, senza appunto andare a ricollegarlo al significato e alla funzione che ha avuto, che era un soldato, insomma, però Ezzelino è un nome rude ed è un banchiere, non è un bancario, perché qui ci sono dei miei colleghi di banca, adesso non li vedo e sanno bene la differenza che c'è tra banchiere e bancario. Quindi lui è proprio un banchiere, lui ha costruito questa piccola banca in questo villaggio, questa comunità, per cui poi si scoprirà, insomma, che tipo di personaggio. Quindi questo nome corrisponde al personaggio, lui è un avido che ama circondarsi di tante cose, di tanti oggetti, di tante cose belle, perché pensa che la bellezza stia negli oggetti e poi c'è appunto Titina, questo Scialba, questo nome così. Agnese, invece, è un nome che io trovo dolce e quindi corrisponde al personaggio, anche a uno dei personaggi principali, insomma. Martino, non so come mai mi è venuto Martino, nome di un bambino delicato e questo bimbo che ha una funzione importante, insomma, poi in tutto il contesto della storia. Allora, quindi, abbiamo visto Titina, personaggio un po' inconsistente, Zellino, l'avido, Augusto, il sindaco. Ci sono però tre personaggi che in qualche modo spiccano e spiccano per la loro interazione tra di loro e rappresentano, sono e rappresentano, lo scienziato, il prete e il filosofo, che sono tre personaggi importanti all'interno di questa narrazione. Come interagiscono tra di loro? Che ruolo hanno nella narrazione di Neve a Luglio? Allora, diciamo che appunto ho individuato una serie tra le varie tipologie di personaggi. Ho preso, ad esempio, delle particolari, insomma, che hanno delle caratteristiche. Allora, in questo villaggio, così, che potremmo dire, insomma, di montagna, dove così la gente è un po' isolata, isolata dal contesto cittadino, ci sono però una serie di personaggi che rappresentano l'aspetto culturale, diciamo, l'aspetto culturale di Pondark. E sono appunto il sindaco, che è un filosofo, il prete e lo scienziato. E questi tre personaggi si incontrano per stabilire appunto che cos'è questo fenomeno straordinario. E naturalmente tutti e tre hanno una visione, una visione diversa. Ecco, allora, ci sono molti modi per affrontare un evento perturbante. E l'abbiamo visto appunto con il Covid. Ci sono coloro che dicono che non c'è, che non è accaduto niente, e quindi negazionisti. Ci sono quelli che lo sottovalutano, dicono, vabbè, in fondo non è niente di particolare. Ci sono quelli che dicono, succederà, i fatalisti. Ci sono quelli che invece lo tengono in considerazione. Ecco, queste sono diverse modalità di affrontare qualcosa che io chiamo di perturbante. Perché il perturbante è appunto quell'elemento che sconvolge, di cui non si conosce l'origine, ma che comunque ci tocca in profondità. Allora, diciamo che lo scienziato, ovviamente per la sua caratteristica, cerca di analizzare il contenuto specifico di questo elemento, che è appunto la neve. Ma non è neve, perché non ha nessuna componente biologica, la composizione cellulare, non ha la struttura molecolare fatta a stelle, come i cristalli appunto della neve. E quindi non mai si è vista prima in natura un qualcosa di simile appunto a questo elemento. E lui è sconvolto, perché quando uno scienziato non riesce a dare risposta, effettivamente la scienza ha la necessità di dimostrare, per cui la sua funzione è quella di dimostrare, il dimostrabile, di dare, e non riesce e quindi è abbastanza sconvolto. Cosa diversa invece è il prete, che ovviamente dice se è qualcosa che è venuto dall'alto, perché comunque la neve è arrivata dall'alto, se è qualcosa che viene dall'alto, viene da Dio. E se viene da Dio, tutto ciò che viene da Dio è buono. E in effetti questa cosa in qualche modo attira anche il Augusto, che dice sì, è cosa buona. Però lui, essendo un filosofo, non gli bastano le considerazioni della fede, della fede della religione. Lui si interroga sul perché. In effetti la filosofia si basa proprio su questa funzione fondamentale, il domandarsi il perché delle cose. E quindi lui si pensa che alla fine dice no, noi stiamo indagando in un modo errato. Non dobbiamo analizzare la struttura di questa cosa, ma dobbiamo domandarci il perché è arrivata. E dice probabilmente qual è la funzione della neve nella sua realtà naturale. La neve ha la funzione di coprire. E allora, ecco, adesso non è che voglio svelare tutto, però che cosa copre la neve? E dice probabilmente è arrivata al momento giusto. E il prete dice perché è il momento giusto? Cioè ogni cosa che viene da Dio o comunque dall'ultraterreno che ha questo carattere perturbante ha comunque una sua funzione. Quindi dobbiamo chiederci perché è arrivata. E probabilmente è arrivata come ogni cosa che arriva nella nostra vita quotidiana con caratteristiche diverse che non necessariamente è il Covid, la pandemia o qualsiasi cosa che ci arriva è perché è il momento giusto. Cioè è il momento, dice, di cambiare, di prendere atto per un cambiamento. Infatti la neve è proprio il motore del cambiamento che avverrà poi all'interno di questa comunità. Neve a luglio, rispetto ai tuoi precedenti romanzi, si discosta da una vena molto realista che tu di solito hai all'interno comunque delle tue storie e si avvicina per certi aspetti al fantastico, nel senso che tu introduci alcuni elementi che possono far parte comunque della narrazione fantastica. In qualche modo la storia, la trasformazione che avviene nei personaggi di Pondark, negli abitanti di questo borgo, ricorda e segue le tappe di quello che viene definito il viaggio dell'eroe. Per cui partendo da una determinata circostanza c'è un'evoluzione dei personaggi in una determinata direzione. Ora, il viaggio dell'eroe, affinché possa essere definito tale fino in fondo, soprattutto diciamo nelle interpretazioni più moderne, deve portare però a una competenza e conoscenza condivisa. Cioè non deve essere solo a vantaggio dell'eroe, quindi del singolo personaggio, ma poi ciò che viene acquisito deve essere ugualmente distribuito all'interno di una società entro la quale l'eroe poi torna. Direi che questo avviene in maniera molto significativa a Pondark e c'è un momento molto particolare che vede proprio la condivisione di un rito di passaggio, senza entrare troppo nel dettaglio e senza svelare naturalmente troppo, perché il bello poi è anche il piacere della scoperta dei singoli avvenimenti. Ma in che modo questa trasformazione avviene all'interno di tutta la comunità? Noi vediamo, forse quella più evidente al lettore è proprio la trasformazione di Titina, ma in realtà si trascina tutta una serie di evoluzioni dei personaggi, ma sono strettamente legate tra loro. Quindi parlaci del rapporto dei personaggi in questa evoluzione. Sì, allora questo, come hai detto tu, il viaggio dell'eroe ha questa funzione, questa caratteristica. E in effetti noi, anche se magari non lo sappiamo, ma comunque abbiamo bisogno di riferimenti mitici. Noi siamo immersi e circondati, ovviamente in ogni azione che noi facciamo c'è il riferimento alla... insomma, a qualche... facciamo riferimento a qualche mito, no? Per cui in questo caso il viaggio dell'eroe è un viaggio mitico, no? E la trasformazione di questi personaggi avviene all'interno di un momento che è tra fantasia e realtà, che è un po' come la situazione che si realizza nei sogni, insomma, in cui si stabilisce o si raggiunge un livello di coscienza non più razionale. Quindi si lascia libera la possibilità della nostra interiorità di esprimersi nella sua totalità. Ecco che appunto questi personaggi si ritrovano in questo momento sospeso, no? Tra fantasia e realtà. E c'è una contaminazione tra di loro perché appunto quando inizia un percorso e un processo trasformativo questo ovviamente non può che coinvolgere anche a chi sta vicino a te e che è disposto ovviamente ad iniziare questo percorso, insomma, un percorso con te, ecco. Quindi tutti questi personaggi che sono legati, che hanno delle caratteristiche diverse, hanno delle identità e delle caratteristiche diverse sono in relazione tra di loro, insomma, e quindi c'è questo... Cioè, se tu, voglio dire, se tu cambi quello che è in relazione con te o cambia anche lui oppure la relazione si spezza. Ecco, quindi c'è... Mi viene in mente l'immagine proprio dell'acqua, del lago, quindi di un sasso che cade all'interno di una pozza d'acqua e partono queste onde concentriche per cui il motore del cambiamento è il sasso, ma poi ovviamente va a influire su tutto quello che c'è nello stagno. Man mano l'onda si propaga e quindi niente può sottrarsi a questo cambiamento. Mi sembra proprio un'immagine molto, molto azzeccata, infatti, se si è proprio l'onda che si dirama e che si allarga. Se si è proprio, direi che è proprio così. Quindi i nostri personaggi che vivono in questo mondo ordinario passano attraverso questo mondo straordinario. Sempre strizzando l'occhio un po' al genere fantastico, tu introduci anche il personaggio di Martino, Nino, Ninetto, che ha un ruolo fondamentale ed è forse il personaggio che più sperimenta la magia e in qualche modo sperimenta, permettetemi l'accezione molto larga, la magia alchimica della trasformazione, perché Martino è il personaggio che riesce a vedere oltre quelle che sono le apparenze attraverso un oggetto magico. Quindi, Martino, nella tua immaginazione, nella creazione del suo personaggio, che ruolo ha? Qual è il suo... Allora, Martino è un personaggio fondamentale, infatti è molto, credo che sia molto importante anche il rapporto che Martino instaura con il sindaco. Quindi Martino è il bambino, il sindaco è l'adulto padre, insomma, padre. E Martino, in qualche modo, viene ricalcato un po', la funzione magica dell'oggetto che Martino utilizza viene in qualche modo rimarcato anche dall'immagine di copertina, che se si apre si può vedere come il ponte che si riflette nell'acqua riproduce un cerchio perfetto che richiama poi questo oggetto magico che Martino utilizzerà per vedere i personaggi. Allora, Martino è questo bambino fragile e debole, però che ha una sensibilità e un'interiorità molto forte e riesce a vedere, a guardare attraverso questa lente magica le persone e le vede per come queste persone sono nella realtà momento in cui lui le guarda e loro non sanno di essere così. Quindi lui, con l'innocenza e con questa, è proprio lo sguardo innocente del bambino che può vedere al di là di ciò che appare. Quindi è una funzione... Stiamo lasciando per ultimi, ma non per importanza, i personaggi, diciamo che sono personaggi importanti, chiave del romanzo. Uno è Martino, uno è un altro personaggio che vediamo comparire all'inizio del romanzo, un personaggio misterioso di cui poi succede qualcosa ma non sveliamo di più. Però questo personaggio ha un ruolo molto importante. Due parole per incuriosire su quest'ultimo personaggio. Le parole perché appunto... Senza svelare. No, no, perché comunque anche questo è come se fosse una storia, diciamo, collaterale, perché c'è la storia di questo personaggio che compare all'inizio e poi scompare, insomma. Poi in qualche modo lo ritroviamo però alla fine. Ha una... Anche lui ha una funzione fondamentale. Ha una funzione fondamentale proprio come... Possiamo dire, insomma, che comunque c'è all'interno anche del romanzo una storia d'amore e comunque l'amore è sempre quello che unisce e che lega tutto poi alla fine. quindi direi che ha questo ruolo che è abbastanza importante, direi. Sì, perché la storia d'amore ci deve essere altrimenti. Una storia d'amore, insomma, non ordinaria, ecco, si spera, insomma, così un amore consapevole. Ecco. Ok. Concludiamo con un invito a leggere questo bellissimo romanzo sul cambiamento, sull'evoluzione, sull'importanza dell'attesa ma anche di non indulgere troppo nell'attesa e di saper cogliere il significato di ciò che arriva nell'esistenza e di saper guardare oltre l'apparenza, di provare come Martino in qualche occasione a mettere davanti agli occhi una lente magica per capire a chi abbiamo di fronte e aprirci in qualche modo anche a chi abbiamo di fronte in maniera diversa. Grazie, grazie Elena che poi è una scrittrice pure lei per cui, insomma, ne sa qualcosa sia della scrittura che del tempo dell'attesa e che... quindi grazie mille Elena, grazie. Dove possono trovare il tuo romanzo? Adesso qui oppure allo stand di Zefiro? Lai in fondo oppure... Ah, ok, in fondo alla sala chi vuole accomodarsi Claudia poi si presterà all'unito per firma copie. Va bene, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.